L'altro consiglio che ci davano i nostri genitori è risparmia. Metti i soldi da parte che chissà che cosa succede. Altro consiglio sbagliato. Perché abbiamo un problema col risparmio. Il risparmio viene distrutto dall'inflazione. E l'inflazione ne esistono di due tipi. Esiste l'inflazione che dichiarano i politici, ed esiste la mia inflazione. Che sono due cose totalmente diverse. Quanti si ricordano che 10 anni fa, 15 anni fa, si mangiava la pizza con 5.000 lire? O 10 anni fa? Oggi quanto ci vuole mangiare una pizza? 14 euro, 12 euro, ed è un'inflazione del 2%? Non è un'inflazione del 2%. Perché 5.000 euro sono 2,50 euro. 14 euro, quante centinaia di per cento è l'inflazione? Se sono uno che mangia pizza. Certo, mettono le MS che nessuno fuma più. Nel paniere ci sono un sacco di cose che non esistono più. E quindi quell'inflazione che loro dichiarano non è reale. Perché io me lo ricordo quando andavo all'università. Pagavo 150.000 lire la casa Milano. Oggi a Milano non trovi niente a 75 euro. Ma non trovi niente neanche a 400 euro di appartamento. Ma non trovi niente probabilmente neanche a 600 euro. Quindi da 150.000 lire, 30 anni fa, 28 anni fa, ad oggi, 1.000 euro comparabile la casa, questa roba non è vero che l'inflazione è quella che ci hanno detto. Questa è l'inflazione media dichiarata dal 1900 al 2014. In Italia circa l'8%. Quindi vuol dire che se io metto i soldi da parte, metto i soldi da parte, metto i soldi da parte, ogni anno quei soldi che metto da parte vengono bruciati dell'8%. Quindi dopo dieci anni, quei soldi sono stati bruciati di quasi tutti. E quello è un problema. Quindi risparmiare non è più una strategia. Devo investire, devo fare in modo che i miei soldi crescano, perché se li produco e li metto da parte, devono crescere ad un ritmo che è nettamente superiore all'8%. Perché se no, li sto bruciando.